...importanti, arriviamo da un momento costo, siamo scontrate con queste squadre importanti e abbiamo sofferto di avere necessario un cambio di previsione e di ritornare a essere quelle che siamo tutta la scuola giocattata e quelle che abbiamo fatto vedere di essere ogni volta che abbiamo già fatto queste bellissime vura e mi sono molto contenta perché ho vinto la mia squadra unita nella volontà di parte della scuola giocattata della possibilità. Adesso manca l'ultima giornata di regular season in casa del Club Italia e poi subito sotto con la più promozione. Sì esatto, adesso noi penseremo ancora a questa partita perché comunque non è da sottovalutare anche perché è contro il Club Italia che comunque è una squadra che magari ha meno giocattici esperte, sappiamo che loro comunque hanno delle felicità importanti e giocheranno e non dobbiamo far pensare in partita, quindi è la nostra società di produzione, siamo vissata alla prossima partita e poi vedremo quali saranno gli incroci.